A 7 non hai più il disinnezzatore ultimo uomo per la squadra alleata il vizinezzatore è stato recuperato la squadra d'attacco ha eliminato i difensioni mamma che kill 15 secondi il operatore alleato rimasso ultimo attaccante rimasto in vita rimangono cinque vittoria alla difesa vinci eliminato ma stanno buonare il nemico ti scoprirà se rimani in questa zona ti hanno scoperto, sono indietro vincita un altro un altro un altro un cio, un cio un cio io avevo un colpo non piccando Aldo sto io wow come di un altro dove sembra vischen va dentro ti ho vieni Grazie a tutti.